Buonasera, Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri. Allora andiamo in diretta a Roberto Kinseri. Sì, tra poco comincerà il Consiglio dei Ministri. Intanto in giornate i ministri si sono anche confrontati con le relative categorie. Ci sono le misure, a partire da quelle già in campo, come la sospensione dei tributi, dei pagamenti per la zona rossa, per cittadini e imprese. Poi c'è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che praticamente ci sarà la possibilità del lavoro a distanza, lo smart working per le regioni del nord, così come lo stop ai viaggi di istruzione e lo stop agli eventi sportivi oppure la possibilità di disputarli a porte chiuse. Ulteriori provvedimenti entreranno in un decreto che ci sarà entro la settimana provvedimenti economici come una cassa integrazione in deroga per l'azienda sotto i sei addetti sempre della zona rossa e poi anche lo stop ai mutui e alle bollette. Ma di misure anche il Governo ha parlato con le forze politiche, c'è stato un dialogo, vediamo allora i servizi di Sonia Sarno e Paola Cervelli. Con Conte abbiamo chiarito nessun errore dall'ospedale di Codogno. Il Presidente della Lombardia Fontana interviene così dopo momenti di tensione al tavolo col Governo, il suo abbandono del vertice e poi il rientro. E poco fa è stato Salvini a chiamare il Premier per sottoporre il piano straordinario della Lega per affrontare l'emergenza economica, assicurando pieno sostegno se verrà ascoltato. Servono almeno 10 miliardi, dice Salvini, ho inviato le nostre proposte. Siamo in contatto con tutte le categorie produttive di tutta Italia. Ci tengo a dire che il problema non è della zona rossa di 10 comuni, il problema è di tutto il territorio nazionale. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia confermano l'orientamento a votare il decreto del Governo. Anche dagli azzurri presentate misure in sostegno dell'economia. Il Governo accolga i nostri suggerimenti, la richiesta. Conte dimostri la responsabilità che chiede a noi. L'emergenza coronavirus è un rischio anche per la nostra economia. Il Governo si muova, servono misure immediate per le imprese e il Made in Italy. Stop a mutui tasse e bollette per le zone colpite. Stop ai pignoramenti e ai fermi amministrativi, la richiesta di Fratelli d'Italia. La Camera voterà domani il decreto con le misure di emergenza sul coronavirus. Alle 21 poi il Ministro della Salute e Speranza informerà Montecitorio giovedì mattina il Senato. Punto operativo oggi per i 5 Stelle con la delegazione di Governo e il capo politico Crimi che ribadisce il massimo sostegno a imprese Made in Italy e l'idea di estendere le misure economiche. Credo che uno degli elementi che è sottolineato da tutti è quello di garantire la necessaria liquidità alle imprese. Stiamo valutando la sospensione del pagamento delle bollette, dopodiché sarà necessario anche prevedere una ratizzazione per i pagamenti successivi. Quello che non serve, ripete la maggioranza, sono gli attacchi strumentali al Governo. Uno stop deciso alle polemiche arriva dai ministri Dem, Guerini e Franceschini. Ora non ci sono Governo in regioni, destra e sinistra. Tutto viene dopo, dice il capo delegazione. Il PD pensa a misure economiche per aziende e professionisti in tutto il Paese. Tutti insieme al lavoro, giorno per giorno, per affrontare insieme questa crisi sanitaria che possiamo assolutamente risolvere all'altezza del nostro sistema sanitario nazionale. Ci sarà tempo per capire chi ha sbagliato. Ora lavoriamo insieme, rilancia da Italia Viva Renzi. Gli italiani, osserva Fornaro, Leo, ci chiedono unità. Alla Camera intanto via libera la fiducia sulle intercettazioni. Il Senato commemora le vittime del coronavirus. Grazie. Grazie.